vangelo di matteo capitolo 22 dal versetto 1 al versetto 14 gesù ricominciò a parlare loro in parabole dicendo il regno dei cieli è simile a un re il quale fece le nozze di suo figlio mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze ma questi non vollero venire mandò una seconda volta altri servi dicendo dita agli invitati io ho preparato il mio pranzo i miei buoi i miei animali ingrassati sono ammazzati tutto è pronto venite alle nozze ma quelli non curandosene se ne andarono chi è al suo campo chi al suo commercio altri poi presero i suoi servi li maltrattarono e li uccisero allora il re si adirò mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a bruciare la loro città quindi disse ai suoi servi le nozze sono pronte ma gli invitati non ne sono non erano degni andate dunque ai crocicchi delle strade chiamate alle nozze quanti troverete e quei servi uscite usciti per le strade radunarono tutti quelli che trovarono cattivi e buoni e la sala delle nozze fu piena di commensali ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze e gli disse amico come sei entrato qui senza avere un abito di nozze e costui rimase con la bocca chiusa allora il re disse ai servitori legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre lì sarà il pianto e lo stridor dei denti poiché molti sono i chiamati ma pochi sono gli eletti vogliamo chiudere gli occhi e pregare brevemente il signore gloria al tuo nome signore padre buono padre santo noi veniamo a te nel nome di gesù in questa mattina per ringraziarti ancora come ci hai condotto in questo luogo come ci stai dando grazia di stare alla tua presenza veniamo a te nel nome di gesù dio d'amore chiedendo di di perdonare tutti i nostri errori i nostri sbagli i nostri peccati signore dove abbiamo sbagliato perdonaci liberaci da noi stessi signore liberaci dal male signore questa è la preghiera che ci ha insegnato gesù vogliamo signore essere coerenti con la tua parola vogliamo appartenerti pienamente vogliamo sentire che il tuo spirito è vivente e presente in noi vogliamo i tuoi pensieri i tuoi sentimenti vogliamo avere in bocca le tue parole togli del nostro signore in questa mattina metti del tuo parla ai nostri cuori te lo chiediamo nel nome di cristo gesù il signore che tu l'hai benedetto in eterno gloria al signore questa parabola fratelli e sorelle ci parla dell'opera meravigliosa di cristo se vorremmo se vogliamo sintetizzarla dell'invito d'amore del signore per tutti gli uomini ed è meraviglioso fratelli la promessa del messia insomma c'è tanto dentro questa parabola al versetto 1 al versetto 3 scritto gesù ricominciò a parlare loro in parabola dicendo il regno dei cieli è simile a un re il quale fece le nozze di suo figlio mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze ora si dice che all'epoca quando c'erano appunto queste nozze c'era un primo invito che veniva fatto a tutti quanti insomma per stabilire il giorno un po pure come viene fatto oggi poi subito dopo quando arrivava il momento c'era questo secondo invito quindi gesù sta usando delle similitudini insomma delle cose che accadevano all'epoca è importante saperle ma qui come abbiamo letto tutto era pronto tutto era finalmente ben preparato e dice mandò i suoi servi a chiamare gli invitati ma è scritto che questi alla fine del versetto 3 non vollero venire il primo invito fratelli e sorelle e qualcuno l'ha affiancato questo primo invito al popolo di israele ma in realtà è così è stato il primo popolo a essere chiamato il primo popolo ad essere avvertito della venuta del messia tramite i profeti poi c'è un secondo invito fratelli e sorelle al versetto 4 abbiamo letto mandò una seconda volta altri servi dicendo dite agli invitati io ho preparato il mio pranzo i miei buoi i miei animali ingrassati sono ammazzati tutto è pronto venite alle nozze ma questa volta non solo non sono andati dice proprio ma quelli non curandosene se ne andarono chi al suo campo chi al suo commercio altri poi presero i suoi servi li maltrattarono e li uccisero quindi proprio una respingere in maniera forte in questo secondo invito vediamo ancora l'opera di dio respinta addirittura presero i suoi servi li uccisero li maltrattarono diciamo un po quello che poi è accaduto anche quando il signore ha inviato gli apostoli i suoi servi dopo il sacrificio dopo e che gli è risuscitato su quella croce il popolo del signore non ha abbracciato questo messaggio del vangelo pienamente ma c'è stata una forte resistenza ed è scritto il luca capitolo 13 versetto 34 parleremo appunto di questa forte resistenza da parte non solo del popolo di dio ma anche un po del mondo di oggi anche in modo particolare l'evangelo di luca capitolo 13 versetto 34 qui è gesù che parla appunto ancora al popolo di gerusalemme 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 che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto quante volte il signore aveva esortato questo popolo io riflettevo sui profeti fratelli e sorelle che il signore mandava questi profeti inviati da dio disprezzati immaginiamo un po geremia immaginiamo un po tanti altri insomma uomini di spessore spiritualmente parlando non posso fare un confronto con loro per carità ma nonostante questi uomini di dio così fortemente guidati eppure avevano forti opposizioni e forti resistenze proprio all'interno perché qui parliamo del popolo del signore dice quante volte gesù sta dicendo io ho voluto incoraggiarvi esortarvi tramite questi miei servi ma voi non avete voluto vedete il signore ha stabilito paolo ne parla la divulgazione del vangelo attraverso la pazzia così la definisce della predicazione perché pazzia perché per l'uomo è follia questo modo di fare da parte di dio cioè ottenere la salvezza mediante cristo mediante quel sacrificio ritornando al versetto qua che abbiamo letto al versetto 4 di matteo 22 dice mandò una seconda volta altri servi dice andando avanti dice dite agli invitati io ho preparato il mio pranzo i miei buoi i miei animali ingrassati sono ammazzati tutto è pronto ho preparato tutto per te per voi e queste parole fratelli ci fanno un po pensare alle parole di gesù quando era sulla croce quando disse tutto è compiuto l'opera è conclusa non c'è bisogno di aggiungere niente a quel sacrificio noi abbiamo in cristo tutto pienamente non ci manca nulla spiritualmente parlando e quindi quando pietro scrive dice a dio ci ha donato dice le sue preziose e grandissime promesse perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina quindi le porte della grazia sono aperte dinanzi a noi e sono state stese a tutto il mondo ci sarebbe da soffermarci su ogni parola ma vada avanti giovanni capitolo 3 versetto 16 è scritto è un testo che oramai conosciamo a memoria poiché dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo nigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna chiunque in quel chiunque ci siamo io e te quindi in questa mattina non sentirti escluso o esclusa perché è impossibile in questo modo tu metti in dubbio dio e dio è fedele fratelli e sorelle noi facciamo parte noi siamo l'oggetto dell'amore di dio con tutti i nostri difetti con tutti i nostri pregiudizi che spero che non ne abbiamo e con tutte sì i nostri errori eppure siamo le persone le creature più amate al mondo tu sei prezioso ai miei occhi dice il signore ed io ti amo tu fai parte di questo amore caro fratello e cara sorella noi parliamo sempre a quelli di fuori ma noi pure siamo l'oggetto dell'amore di dio siamo stati lavati col sangue prezioso di gesù ma andiamo al versetto 11 del nostro testo andiamo avanti ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze attenzione a questa parola e gli disse amico come sei entrato qui senza avere un abito di nozze e costui rimase con la bocca chiusa quando parla il signore fratelli non possiamo replicare perché egli dice sempre la verità allora il re gli disse ai servitori legatelo mani e piedi e gettatelo delle tenebre di fuori lì sarà il pianto e lo stridor dei denti poiché molti sono i chiamati ma pochi sono gli eletti immaginiamo un attimo questa scena una sala piena di persone piena non come questa quindi una sala piena di persone e colui che aveva organizzato tutto guarda proprio uno in mezzo a tanti riesce a notarlo magari gli altri neanche se ne erano accorti fratelli e sorelle il signore conosce i nostri cuori stiamo attenti quello che io non vedo il signore lo vede quello che noi nascondiamo per il signore è completamente aperto dinanzi a lui è scoperto gloria al nome santo del signore notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze questo ci insegna fratelli e sorelle che quello che gli altri non riescono a percepire o a non vedere come ho detto adesso il signore lo vede e quello che veramente è importante non è tanto quello che pensa il pastore o quello che pensano i fratelli e le sorelle ma è quello che pensa dio di me di te è lì che dobbiamo focalizzare fratelli e sorelle tanti sono molto preoccupati di quello che dicono i fratelli e le sorelle chissà cosa diranno ma preoccupati di quello che pensa il signore ma preoccupati di quello che veramente è importante davanti a dio quello che ha raccontato il fratello è importantissimo vedete il signore che cosa va a vedere fratelli e sorelle è importante ma quello che ha letto quello che è successo al fratello sono sicuro che è un'esperienza che riguarda ciascuno di noi in questa mattina non la dico perché è un'esperienza personale la chiesa di l'audicea vista dall'esterno è sicuramente chi ha visto questa comunità l'avrà identificata come una chiesa prosperosa una chiesa sicura di se stessa leggete un attimino apocalisse capitolo 3 ma poi interviene il signore e gli dice tu sei nuda povera cieca tu non vedi leggete le sette chiese noterete quante cose lo spirito riesce a vedere quante cose le mette in evidenza ecco perché giorno dopo giorno noi abbiamo bisogno come diceva il salmista esaminami e conosci mi vedi se c'è in me qualche via inigua perché il nostro cuore è ingannevole fratelli e sorelle più di qualsiasi altra cosa abbiamo bisogno di essere aiutati dallo spirito santo perché fratelli l'uomo guarda l'apparenza ma il signore guarda al cuore e tornando al nostro testo il problema di quella di quella persona era l'abito e questo per noi è un significato spirituale fratelli e sorelle che cos'è l'abito per noi in questa mattina è il nostro interno non è tanto le nostre il nostro esteriore che la giacca la cravatta e la nostra compostezza il nostro modo di voler far vedere magari un cristianesimo corretto il nostro la nostra religiosità no non è questo è l'interiore il nostro cuore il nostro essere proprio lì che il signore sta guardando in questa mattina e con l'aiuto del signore dobbiamo deporre ogni peso dice la parola di dio è il peccato che così facilmente ci avvolge questo abito questo nostro essere a volte si sporca questo vestito che noi abbiamo camminando nelle cose di questa vita può sporcarsi un po quello che è successo al figlio al prodigo quando si allontanò dalla casa del padre poi prese tutto disperse tutti i suoi soldi tutti i suoi beni per le cose di questa vita si lasciò andare quindi nel peccato poi venne una carestia in quel paese e si ritrovò in mezzo ai maiali a pasturare i magliari e a desiderare di mangiare quello che quegli animali mangiavano poi disse fra sé quanto stavo bene nella casa di mio padre quanto stavo bene ma ti ricordi quando il signore t'ha salvato e battezzato nello spirito santo che giorni meravigliosi vuoi ritornare a quei giorni magari qualcosa è successo magari ci siamo allontanati un po come il figlio al prodigo siamo venuti meno quando parli in questo modo io sto parlando non a tutti ma chi si trova in queste condizioni ormai l'avete capito ebbene è scritto che quando questo figliolo tornò dal padre il padre lo abbracciò lo lo baciò lo portò a casa e tra le tante cose leggiamolo un attimino luca capitolo 15 dal versetto 22 perché è molto importante vangelo di luca capitolo 15 versetto 22 al 24 luca 15 dal versetto 22 ma il padre disse ai suoi servi presto portate qui la veste più bella e rivestitelo mettetegli un anello al dito e dei calzeri ai piedi portate fuori il vidello ingrassato ammazzatelo mangiamo e facciamo festa perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita era perduto ed è stato ritrovato e si misero a fare grande festa a noi come diceva il nostro pastore prima il la salvezza delle anime non è costata niente noi siamo molto facili a giudicare a criticare quello lascialo perdere quello non lo salutare quello non t'avvicinare quello non lo far parlare beh noi sì noi siamo molto bravi in questo se fosse diveso da noi il mondo era completamente nel peccato senza una speranza se fosse diveso dall'uomo l'uomo è cinico non è buono fratelli e sorelle l'essere umano ma dio è amore abbiamo ascoltato in testimonianza questo figliolo si era allontanato è tornato e il padre non si è messo lì a dire adesso ti metto all'ultimo banco poi piano piano ti metto al centro piano piano ti faccio fare qualcosa e piano piano vediamo come vai l'ha preso l'ha abbracciato gli ha dato una veste nuova e io vorrei che questo rimanesse impresso nella nostra vita il signore vuole rivestirci togliere questi abiti che magari si sono un po' allogorati si sono un po' insudiciati e darci un abito nuovo fratelli accettiamola questa opera in questa mattina da parte del signore la veste più bella non gli ha dato una veste così dice senti adesso io si va bene ti metto lì in chiesa e vediamo un pochino no no ti do la veste più bella ti rimetto in sesto ti rimetto ti rivoglio come mio figlio questo fa il signore fratelli e sorelle il signore vuole purificare il nostro cuore e io desidero che il signore purifichi il mio cuore tu lo desideri in questa mattina allora è scritto nella parola di dio che il sangue di gesù suo figlio ci purifica da ogni peccato quando anche i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto ecco diventeranno bianchi come la neve questo fa il signore fratelli e sorelle l'uomo giudica il signore risolleva l'uomo condanna vi ricordate quando gesù si trovò davanti a quella donna gliela portarono davanti a peccato e adesso che dici subito il dito accusatore è il signore gesù che conosceva i cuori di tutti bene non solo che conosceva i cuori ma che quando parlava colpiva il segno chi è senza peccato scagli la prima pietra immagino la scena all'epoca forse non c'erano gli orologi sicuramente non c'erano qualcuno ha guardato l'ora dice devo andare i più anziani poi più giovani è il caso che vada anch'io immagino gesù con quello sguardo d'amore come ha guardato quella donna bene dove sono i tuoi accusatori dice non ci sono i tuoi peccati ti sono perdonati va e non peccare più gloria al signore questo fa il signore egli ci rialza fratelli e sorelle gli ci perdona quando noi ci umiliamo dinnanzi alla sua presenza ma c'è ancora una cosa che desidero dirvi efesi capitolo 4 dal versetto 22 al versetto 24 gloria a dio lo so sto prendendo più tempo efesi capitolo 4 dal versetto 22 e qui sta parlando a noi e fratelli ancora la chiesa avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità leggetelo a casa non siete obbligati il capitolo 4 di efesini tutto quanto parla di invidia e gelosia e cose varie paolo dice ma avete imparato a spogliarvi di queste cose ma ancora così state fratelli allontaniamo dai nostri cuori questi atteggiamenti carnali questi pensieri che non fanno altro che portarci indietro nelle vie spirituali poi magari un giorno non sappiamo quando sarà che il signore ritorna oppure che veniamo chiamati davanti a lui e sentire quelle parole dice io non vi conosco operatori di iniquità ma noi vogliamo essere trovati pronti fratelli e sorelli io voglio essere trovato pronto quando il signore mi chiamerà se che torni o no perché la vita nostra fratelli può terminare da un momento all'altro da un giorno all'altro noi non sappiamo ma quello che sappiamo è che dobbiamo essere trovati pronti dal signore è scritto in romani 13 14 non c'è bisogno che lo metti ma rivestitevi del signore gesù cristo e questo già ci dice tutto del carattere di cristo del suo amore è una preghiera continua la mia signore metti i tuoi pensieri tuoi desideri le tue parole nella mia bocca fammi più simile a te dobbiamo spogliarci fratelli e sorelle ci sono credenti che hanno sempre lo stesso vestito li ho conosciuti 30 anni fa 30 anni dopo li rivedi sempre uguale sempre i stessi atteggiamenti sempre i stessi pensieri sempre i stessi ragionamenti e dico dentro di me signore fa che io non arrivi a quell'età in quelle condizioni scusate che mi permetto di dire questo però è quello che penso io voglio essere cambiato fratelli io voglio migliorare nel mio cammino voglio somigliare di più a gesù non voglio ritrovarmi da qui a dieci anni a dire le stesse cose i stessi comportamenti i stessi atteggiamenti rivestitevi gloria al signore spogliatevi ogni giorno ci dobbiamo spogliare rivestire del signore gesù signore dacci la grazia com'è il tuo abito in questa mattina e non devi rispondere a me com'è il tuo vestito come ti senti davanti al signore vogliamo chiudere gli occhi e pregare gloria al signore il signore sta andando ancora sta dando ancora tempo a questo mondo ma anche alla sua chiesa anche la sua chiesa il signore ti sta dando tempo per potersi ravvedere per potersi riconvertire e gli non ritarda l'attempimento della sua promessa come alcuni dicono ma sta dando del tempo ci sta dando la possibilità noi come chiesa e a questo mondo di poterci preparare ti senti pronto in questa mattina no non lo devi dire a me voglio dirti solo che il sangue di gesù ci purifica da ogni peccato noi abbiamo un avvocato presso il padre cristo gesù gloria al signore gli vuole perdonare i miei tuoi peccati vuole purificare i nostri cuori vuole renderci dei credenti pronti pronti per poterlo servire ma pronti per poterlo incontrare se tu desideri questo in questa mattina il signore è pronto a purificare la tua vita il tuo cuore chiedilo al signore alleluia se ti sei allontanato chiedi al signore di tornare a lui gloria a dio gloria a dio magari hai perso le forze il signore può donare nuove forze nuovo vigore riaccostati a dio cercalo con tutto il cuore o ritorneranno i bei tempi sicuramente anche meglio di prima gloria al signore dipende da me e da te alleluia gloria al signore gloria al signore alleluia gloria al nome santo del signore 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 Grazie.